Il tuo corpo non è ciò che sei. Puoi mutarlo come una pelle di serpente. Trasferire la coscienza umana tra corpi e quell'invenzione... l'eternità, la vita eterna. Da quanto tempo sono qui? Da 250 anni. Questa custodia è attrezzata con neurochem di tipo militare e con una memoria muscolare da combattimento e avrà diritto ad abiti e spese accessorie, come richiesto dalla Bancroft Industries. Signor Kovac, non gli ho chiesto di portarmi in vita in questo mondo. Ciò che le chiedo è di risolvere un omicidio. Di chi? Il mio. Chiunque lo abbia ucciso deve essere trovato o saremo tutti in pericolo. Avrò bisogno di accessi che non vorrà darmi. E troverò risposte che potrebbe solo pensare di volere. Amici, nemici, gente che aveva possibilità o muovente... Non posso fidarmi di nessuno. Se non mi darà risultati in fretta... Tornerà nel ghiaccio. Ti immaginavo più grosso. Mi hanno detto di portare rinforzi. Maleducato. C'è molto di più di ciò che vuoi vedere. Il mistero che merita una soluzione. Tenente! Lo sai bene. Salvarvi il culo non è il mio solo impegno. Sono nato sulla Terra. All'età di 74 anni ero già l'uomo più ricco di tutti i pianeti. La prima volta sono morto a 99 anni. La mia coscienza è trasferita in un nuovo corpo grazie alla tecnologia. Per 263 anni sono stato ricustodito in nuovi corpi. e ho vissuto in perfetta salute. Ma l'altra notte, all'età di 365 anni, sono morto di nuovo. Ora, ho assunto qualcuno che trovi il mio assassino. La mia coscienza è trasferita in un nuovo corpo grazie a tutti i pianeti.